Musica Pace a tutti, ben ritrovati insieme, pronti per ascoltare il culto di questa sera, ben sintonizzati sulla frequenza di radio messaggio cristiano e ben ritrovati, ben connessi attraverso il nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook. Buon ascolto dunque ed anche buona visione con la pace di Gesù. Alleluia, ben detto tu sei Signore, alleluia che ci concedi grazia, Signore grazia sopra grazia giorno dopo giorno, alleluia gloria al tuo nome, non ti stanchi di noi, alleluia perché chissà quante volte cadiamo durante la giornata, Signore noi non ce ne accorgiamo ma tu sì, tu ci vedi, Signore ci tendi la mano, ci risollevi e ci fai sentire dentro di noi, Signore quella serenità, quella pace, alleluia, è come una voce che dice non temere vai avanti, io sono con te, alleluia, infatti ancora questa sera chi ci ha condotti in questo luogo, forse la nostra volontà, Signore la nostra umana natura, alleluia, Signore lo Spirito tuo Santo, quello che tu hai messo dentro di noi, a guida e a custodia della nostra vita, dell'anima nostra, alleluia, gloria al tuo nome, e per mezzo di questo Spirito che vogliamo elevare a te la nostra lode, offrirti il sacrificio della sera, il suave profumo, Signore che ti è tanto gradito, insieme a Gesù che con te lo benediciamo, ora e sempre in eterno, Amen, alleluia, Amen, Amen. Gesù che mi ascia, Gesù che mi ascia, Grazie a tutti. 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 Lotte uscì verso di loro davanti alla porta di casa, chiuse la porta dietro di sé e disse «Dei fratelli miei, non comportatevi in modo così malvagio. Sentite, io ho due figlie che non hanno conosciuto uomo. Dei lasciate che ve le porti fuori e fate loro quello che vi pare. Ma non fate nulla a questi uomini, perché si sono entrati sotto la protezione del mio tetto. Grazie a tutti». Grazie a tutti. Colpirono quindi di cecita la gente che era alla porta della casa, dal più piccolo al più grande, cosicché si stancarono nel tentativo di trovare la porta. Allora quegli uomini dissero a tutti. e disse «Dei fratelli miei figlie e disse «Levatevi, uscite da questo luogo perché l'Eterno sta per distruggere la città». Ma ai generi parve che egli volesse scherzare. Come spuntò l'alba, gli angeli sollecitarono Lot dicendo «Levati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui affinché tu non perisca nel castigo di questa città». Ma siccome egli si induggiava, quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue due figlie, perché l'Eterno aveva avuto misericordia di lui, lo fecero uscire e lo condussero in salvo fuori della città. Come essi li conducevano fuori, uno di loro disse «Fuggi per salvare la tua vita, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura, salvati al monte che tu non abbia a perire». Malotte rispose loro «No, mio signore, ecco il tuo servo ha trovato grazie agli occhi tuoi e tu hai usato grande misericordia verso di me salvandomi la vita, ma io non riuscirò a raggiungere il monte prima che il disastro mi sopraggiunga ed io perisca. «Ecco, questa città è abbastanza vicina per potervi arrivare ed è piccola, dè, lascia che io fugga là, non è essa piccola? E così avrò salva la vita». L'angelo gli disse «Ecco, io ti concedo anche questa richiesta di non distruggere la città di cui hai parlato, affrettati, fuggi là, perché io non posso fare nulla finché tu vi sia giunto». «Perciò quella città fu chiamata Soar. Il sole si levava sulla terra quando Lot arrivò a Soar. Allora l'Eterno fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra, zolfo e fuoco da parte dell'Eterno. Così egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti della città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Abramo si levò al mattino presto e andò al luogo dove si era fermato davanti all'Eterno, poi guardò verso Sodoma e Gomorra e verso tutta la regione della pianura ed ecco vide un fumo che si levava dalla terra, come il fumo di una fornace. «Così avvenne che quando Dio distrusse la città della pianura, Dio si ricordò di Abramo e fece allontanare Lot di mezzo al disastro, quando distrusse le città dove Lot aveva dimorato. Alleluia. Amen. Fin qui la lettura. Alleluia. Sì, ha glorificato il Signore. Scusatemi che ho la voce bassa. Allora, intanto noi vediamo come il Signore mi ha fatto intanto leggere anche questa sera, vedete, questo capitolo. Perché anche in questo noi il Signore ha fatto rispecchiare l'andamento familiare nella famiglia di Lot. Alleluia. Amen. Glorie a Dio. Perché? Perché effettivamente noi abbiamo visto come Lot essendo stato visitato a sorpresa. Perché non è che lui sapeva che quella sera sarebbero arrivati i gosoli. No? Se lui l'avesse saputo si sarebbe preparato in una maniera diversa. Invece, vedete, lui non sapeva niente, quindi tutto, vedete, lui era alla porta della città. Amen. Perché quello era, si vede, il suo modo di vivere. Amen. Glorie al Signore Gesù. E se noi, vedete, viviamo in una maniera corretta e gradita a Dio, eh, allora il Signore, eh, ci visita. Il Signore non ci visita quando noi viviamo una vita scorretta. Amen. Glorie a Gesù. Alleluia. Ed infatti il Signore, vedete, ci sta ammaestrando in questo per farci vivere, vedete, una vita familiare proprio, però corretta. Non una vita scorretta. Perché se noi vivessimo una vita, se noi avessimo una vita scorretta, lui non ci visiterebbe. Amen. Scusate se ogni volta un congiuntivo, un scotto. Alleluia, no? Alleluia. Ustessi non capiamo, però. Anche non interessa. No, perché quando uno parla così è facile che uno non coniughi i verbi nella maniera corretta. Ma l'importante però è che noi ci possiamo comprendere la vicenda. Alleluia. Perché mi può scappare. Sì, sì, che poi, una volta che mi scappa, non è che posso andare a rincorrere l'errore che ho fatto, la grammatica, come buco, 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 buco. Vabbè, ma mi dovrei correggere, ma vabbè, per fare bella figura che saccio parlare l'italiano. Tanto stesso non saccio parlare l'italiano. E allora, ripeto, perché effettivamente noi dobbiamo essere noi stessi. Io, vedete, sono me stesso. E grazie perché sono me stesso il Signore si usa. Perché se io non fossi me stesso, allora incomincerei. Ah no, e come salgo su puputo? Ah no, aspetta, e se poi sbaglio? E se poi qua? Vedete, invece no. Questo sono. Chi mi vuole accettarmi deve accettare per quello che sono. Ah, è giusto? Sì o no? Alleluia, gloria a Dio. D'altra parte il Signore non è che ha scelto i discepoli, gli apostoli, perché erano perfetti, perché sapevano parlare. Lui li ha scelti, perché? Per quello che erano, perché vedete, si è glorificato il Dio. Vedete, anzi, ora con questo non è che non vorrei che qualcuno magari fraintendesse, se io fratello solo è giusto fare, no. No, perché se effettivamente, vedete, io dovessi essere un oratore, un parlatore corretto, amè, la gloria di Dio non si vedrebbe nella giusta misura, amè, invece, vedete, quando una persona, infatti ecco perché l'apostolo Paolo lo precisa, dice, vedete che tra di noi non ci sono molti savi, molti, molti colti, perché, dice, Dio ha preso le cose disprezzate dal mondo, le cose, amè, questo proprio per far risaltare, amè, per far risaltare, allora, la giustizia di Dio, la sapienza di Dio, amè, gloria all'altissimo, alleluia. Quindi, e io me ne sono accorto, man mano che il Signore mi ha fatto crescere, sia ad età che anche spiritualmente, che pian piano lui mi ha fatto crescere e anche mi ha, mi sta trasformando, piano piano. Fratelli, infatti, io oggi mi ritrovo, no? Con alcune decine di anni in più, quando ho conosciuto il Signore, ed anche con un carattere pure diverso, alleluia. Vedete, perché effettivamente lui è come, guardate, si è glorificato Dio, è come quando uno va in una città, lontana dal proprio paese nativo, di un neonascivo, e allora, quando uno va in una città, no? Lontana dal proprio paese, che cosa fa? Prima di adattarsi, passa un po' di tempo, poi piano piano, piano piano, piano piano, allora, quella persona si inserisce, diciamo, nella società di quella città, no? e piano piano incomincia a parlare un po' con un tono diverso, usando vocaboli diversi, cioè di quella città, ma non lo fa tanto per volersi, perché questo avviene nel tempo, non è, perché, fratelli, quelle che per esempio vanno a Roma oggi, domani ritornano e ti parlano in sua mano, chiede da, non è che si erano inseriti, chiede da, che possono fare, a procura di chiede da, che, che, allora, perché sono, sono successi questi casi, ci sono stati, per esempio, che magari andavano per fare la visita di soldati, andavano lì, che erano siciliani incarnati, no? andavano, passavano la visita, magari, non li prendevano, no? andavano, nella loro, fino alla loro città, stavo dicendo, nel loro paese, e cominciavano a parlare, il romano, no? e allora, nel campo del Signore, vedete, il Signore ha fatto, e sta continuando a fare questo, con me, ecco, prima io vivevo nel mondo, in mezzo a tutti gli uomini, amè? allora, piano piano, piano piano, lui mi sta facendo inserire in un nuovo mondo, in un nuovo ambiente, nell'ambiente spirituale, ecco perché tante volte ci sono le incomprensioni tra il pastore e quelli che dicono di essere credenti, perché il pastore, ora, è come quello lì, che già da molto tempo è vissuto in quella nuova città, e quindi vede le cose in maniera diversa, e si sente come parte di quella città, amè? nel campo spirituale, vedete, avviene questo, ed è una cosa meravigliosa, perché vedete, tutto quello che io faccio, che sto facendo, non lo faccio, perché io me ne accorgo che sono diverso di tanti anni fa, fratello, io me ne accorgo, però mi accorgo anche questo, che non sono stato io a voler trasformare la mia vita, il mio carattere, la mia indole, assolutamente, è una cosa, vedete, che sta accadendo piano piano, piano piano, piano piano, alleluia, gloria a Dio, ed è meravigliosa, infatti è come se io, vedete, ve lo dico in verità, è come nonostante io viva in mezzo a voi, in mezzo agli uomini, però vedete, ma sempre, anche quando sono solo, quando sono a casa, o quando magari esco per comprare qualche cosa, ecco, io mi sento di vivere come in un paese straniero, sì, è come se fosse la mia città, è come se non lo fosse contemporaneamente, a me, gloria al Signore, però non è che questo mi pesa, alleluia, perché per me ormai è una cosa normalissima, quindi io vivo in una maniera disinvolta, non è che mi sento in soggezione, in imbarazzo, diciamo, assolutamente, perché, come ha detto Gesù, dice, io non ti chiedo, padre, che tu li tolga dal mondo, ma che li preservi dal maligno, amè? Quindi, cosa ha voluto dire? io non ti chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li faccia vivere nel mondo, non con il mondo, come quelli del mondo, amè? Preservandole l'alma al maligno, cioè, non facendogli fare le cose che quelli del mondo fanno, amè? Gloria a Dio, alleluia. E il lotto, vedete, era uno di questo, di questi, cioè, che nonostante, vedete, lui vivesse in Sodoma, eh? Eppure, gloria a Dio, era come uno straniero, alleluia. Cioè, lui riusciva a inserirsi, ad essere, cioè, inserito già tra i sodomiti, eh? Però vivendo una vita diversa. Tanto è vero che la sua vita era diversa, che quando, vedete, il Dio si accorse che i sodomiti erano diventati, eh, idolati e peccatori, eh? Lui si è accorto pure che, eh, che il lotto era diverso. Amen? Ed ecco perché era diverso dai sodomiti, dagli altri, quindi il Signore lo visitò mediante quei due angeli. Amen, gloria a Dio. Vedete, gloria all'altissimo, come si può vivere in un mondo perverso, però, da santi, eh? Da persone corrette. Perché quelli, fratelli, che dicono, ma sì, queste cose, no, ora, ora, il mondo è quello che è, non si può fare diversamente, ma perché non vuoi fare? Non si può fare diversamente. Perché Lotte lo ha fatto? Le sue due figlie l'hanno fatto? Amen. È vero o non è vero? Vedete che, che si vuole contaminare, si contamina, ma chi non si vuole contaminare, non si contamina, perché Dio vede e provvede. Lui vede se noi abbiamo la tendenza voluta di seguire quelli del mondo, oppure abbiamo la tendenza voluta che vogliamo servire Dio. E il Signore, dove vede quegli elementi che vogliono servire Dio, li preserva. Amen? Li preserva da ogni male e da ogni pericolo. Amen? E allora, bellissimo, ma il Signore mi sta dando proprio da vedere, da capire, una cosa bella, effettivamente, perché pensate voi che Sodoma e Gomorra erano talmente peccatori che addirittura il Signore decise di distruggerli. Fratelli, e non solo di distruggere i Sodomiti, ma persino la loro terra. Infatti, dovete sapere che il luogo, i luoghi dove c'erano Sodoma, Gomorra, quei luoghi li, sapete che non li hanno trovati? Non ci trovano. Per esempio, a Roma, per esempio, Pompei, Roma, pure in tanti altri posti, per esempio, Daormina, che ci sono queste poste, che trovano dei reperti archeologici che fanno risalire alle origini e agli abitanti a cui appartenevano, a quei popoli, a cui appartenevano quei siti. Invece di Sodoma dice che non l'hanno trovato, dice che non ci trovano niente. Quindi guardate come il Signore proprio radicalmente li ha distrutti proprio. Alleluia. Quindi, fratelli, sia glorificato è Dio, che non mi si venga a dire a me, potete dire quello che vogliono, possono dire quello che vogliono, ma che non si dica al Signore, Signore, i nostri tempi sono diversi, quindi ci dobbiamo obbligatoriamente adattare a quelli del mondo e gli altri. Non è niente vero. Perché, torno a ripetere, il Signore, per aver distrutto Sodoma e Gomorra, in una maniera tale da non averla più trovato, il loro sito di Sodoma e Gomorra e gli altri paesi, città che c'erano lì vicine. Figuratevi che gente era. Eppure, in quell'ambiente, un santo uomo. E possiamo dire due sante femmine, due sante donne. Perché, fratelli, ma ci pensate, sia glorificato è Dio, eh? Guardate. Alleluia. Che il Signore ci dia grazia, sapienza e il suo aiuto, perché, come diciamo noi in dialetto, negli abbo e c'è una meraviglia. È vero? Ne di abbo dice una meraviglia. Dici, in italiano che vuole dire? Non lo so neanche io. Non lo so neanche io. Non di abbo. O di abbo è quando uno beffa, ci fai scherzi a Nauro, per esempio, se chi è... che posso dire? Se quello è babuzziente, no? L'uno ci fa... ecco chi due. Dici, non ti fai uiabbo. E non ti fai manco meraviglia. Non ci fai un scherzo, un'arrabassata, un'arrabassata. Insomma, dovrebbe essere questo. Almeno così mi hanno insegnato. A me chi due uiabbo. Quando uno ci fa arrabassata, quando uno si schernisce, ecco, so hai un vocabolo in italiano. Quando uno si schernisce di un altro o di un'altra che purtroppo ha qualcosa che non va. Allora, dice, per dire, non si fa... non deve neanche assolutamente sfiorare col pensiero di... cosa? Chi è tu? O quella? E così e così. Ora, ecco, non gli abbo e non maraviglia che i nostri figli, o Signore, mi ne vada. Amen? Perché, ecco, ci dobbiamo tenere vicini al Signore. Alleluia. Non gli abbo e non maraviglia. Amen? Glorie a Dio. Perché, guardate, Lotte, dove è qua? Allora, ma essi... dunque, 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 dei fratelli miei, non comportatevi, alleluia, in modo così malvagio. Sentite, io ho due figlie che non hanno conosciuto uomo. Dei lasciate che ve le porti fuori e fate loro quello che vi pare, ma non fate nulla a questi uomini perché essi sono entrati sotto la protezione del mio tetto. Fratelli, fratelli, io avremo i ricchi e l'occhi. In Sodoma e Gomorra, che ne restarono solo sì. Quindi erano tutti pervertiti. Amen? Ma ci pensate, quindi quelle città degne di essere scasi al suolo bruciate, eh? Se sono due figlioli vergine, ci avevate pensato mai. Quindi, in un mondo perverso, dove il peccato abbondava, eh? Lotte dice ai Sodomiti, non toccate, lasciate stare questi che sono entrati sotto il mio tetto. Io ho due figli che non hanno conosciuto uomo. E in Sodoma e Gomorra, non hanno conosciuto uomo. A cui ci vuoi dare da moccare? Fratelli, sorelle, torna a ripetere negli abben e meraviglia. Alleluia. Sia glorificato è Dio. Non è una giustificazione. Se le donne, le donne di oggi facilmente si prostituiscono. E i giovani d'oggi si danno anche loro alla pazza gioia, alla fornicazione e all'adulterio. Non c'è giustificazione, fratelli, ai giorni nostri. Anche se manca poco nel mondo di arrivare allo stesso livello di Sodoma e Gomorra, eh? Ma chi è santo, chi ci tiene ad essere santo e a rimanere santo, lo può. Con l'aiuto di Dio. Alleluia. Amen. Fratelli, guardate che un messaggio del genere io non me lo ricordavo mai in vita mia. Eh? Un esempio come questo, ecco. Perché oggi facilmente, diciamo, tanto giovani, quindi maschi, che giovani donne si giustificano. No, ma i giorni nostri, più, perché te. Oddio, sono onesti che non siete ausi. Eh, perché volete. Tanto mascoli che femmini. ma che è timorato di Dio. Eh? Guardate, gloria al Signore. Ecco. Guardate che il Signore questa sera, è chiaro, lui lo sta facendo per un motivo ben preciso. Noi lo sappiamo. Perché? Perché ci sta ammaestrando sia per il millennio che per il regno dei cieli. va bene? Che altrimenti state scuse non ne faria. Non ce le farebbe. Se ce le sta facendo, è perché effettivamente ci tiene. Alleluia. E vuole che nessuno si perda. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Ora per dire, alleluia, giovanottini, Signore Nelli, non lasciatevi coinvolgere da quelli del mondo. Che vengono, mogul, con queste tempi che corrono. Ecco, vedete, il privilegio che abbiamo noi di conoscere la Bibbia. Senti, tu che mi parli così, questa è la risposta che potete dare tanto giovanottini maschi, quindi che Signore Nelli. Eh? credente. Eh? Ed anche se il mondo è corrotto e fa tutto questo schifo, io come credente, tanto maschio che femmina, mi rifaccio ai tempi di Lot, di Sodoma e Gomorra. Anche se tutti gli altri erano corrotti, eh? Tre persone non si erano contaminate, non erano corrotti. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Quindi quello che il Signore mi sta dando da capire è proprio questo. Alleluia. Ripeto, non solo giovanottini, ma pure gente più adulta, pure sposata, tanto mascole che femmine. Perché oggi non c'è né se uno è signorina, né se è sposata, se è giovane o vecchia, perché sconciocano pure i statui. Eh? Stessa cosa di mascole. Non c'è, se uno è vecchio, se ci mancano i denti, se si camminano i stampelli, sconciocano pure i fimmine. C'è uno schifo. Alleluia. E in questo mondo schifoso, eh? Noi ci dobbiamo mantenere santi e puri. Non ci dobbiamo lasciare intaccare. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Dice, ma non si può. Si può. Perché il Signore questa sera ci sta portando questo esempio. Vedi che lì c'era tutto, non schifo. Fratelli, non è rimasta traccia di quelle città. Eppure tre persone, due donne, non hanno conosciuto uomo. Un uomo che non ha commesso mai adulterio. Perché se il lotto fosse stato un adultero, il Signore l'avrebbe fatto perire, come ha fatto perire sua moglie. Amen, gloria a Dio. E perché, guardate, si è glorificato il Dio. E perché, diciamo, il Signore non l'ha fatto perire e ha fatto perire invece anche la moglie di Lot, facendola diventare una statua di sale. Eh? Dice, ma che era pure lei una prostituta? No, non necessariamente. Sapete quello che il Signore mi sta dando da capire? Eh? Se state attenti, lo capirete ancora meglio anche voi. Sapete perché il Signore ha fatto perire la moglie di Lot? Non soltanto perché sì. Quello che si è voltato indietro è stata nascusa, come vuol dire. Ma perché, eh? Si vede che lei giustificava il comportamento di tante sodomite. Non finirò qua. Aspettate che il Signore mi ha dato un'altra cosa. Sia glorificato il Dio. Vedete che bello non aver niente preparato e dipendere direttamente da Gesù. Con la guida del suo Santo Spirito. Sapete perché, fratelli? Eh? Questa è una cosa nuova. Per me. Per voi non lo so. E per tanti avosi. Sapete perché la moglie di Lot si voltò indietro indietro ed è stata trasformata in una statua di sale? Perché appunto giustificava tanti di quelli che si comportavano male. Dici ma la moglie di Lot che ci interessava dei sodomite e di quello come si comportavano. Ecco, gli abitanti di Sodoma e Gomorra. Fratelli, state attenti che qui c'è la risposta. Perché lei giustificava le sue figlie che sono state perdute. Insieme ai loro, ai suoi generi. Ai 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 ai. Ha sapevate questo? Eh? Per me è nuova. Quindi, guardate, tanto è vero che se le altre figlie di Lot e i generi si fossero comportati bene, il Signore li avrebbe salvati. Invece, tanto le altre figlie di Lot che i generi perirono nel disastro, nel fuoco. Perché? Si vede che aveva una cute paglia. Cioè, si vede che anche loro erano peccatori e degni di essere puniti da parte di Dio. Alleluia. Ecco, tante volte, seguitemi, sia glorificate Dio. Tante volte le mamme, ma che volete? È un debole. Che giustificano il comportamento dei loro figli, tanto maschi che femmine. Eh? Il giustificarli, eh? Significa rendersi complici dei loro errori, dei loro peccati. Perché se tu li giustifichi, perché è tuo figlio o tua figlia, eh? Se tu li giustifichi, sei complice. Alleluia. Lotte non li giustificò. Andò, gli parlò ai generi e anche alle figlie. Non l'hanno voluto ascoltare, peggio per loro. Guardate le figlie che si erano mantenute vergini, come hanno ascoltato Lot. Vedete come non si sono voltate indietro e come il Signore li salvò, o meglio, li salvò insieme a Lot. Amen? L'ora di Dio. Guardate, guardate che questa sera il Signore, che bello discorso che ci sta facendo. Alleluia. Amen? Dice, perché il Signore ci sta facendo questo discorso? Fratelli, per chi? Per chi, per chi, per chi, per chi? Fratelli, perché più avanti andiamo, più i giorni passano, più l'umanità si corrompe, diventa sempre più corrotta. E purtroppo i nostri figli, tanto maschi che femmine, sono costretti a vivere in mezzo a loro. Alleluia. Voi pensate che le due figlie di Lot, che facevano i monico di clausura? Vivevano in mezzo a loro. Lot stesso, guardate, Lot stesso, dov'era quando gli angeli sono andati a visitarlo? Dov'era? A casa sua? Che faceva un monico di clausura pure lui? No, si trovava alla porta della città. Alleluia. Amen? Si trovava alla porta della città. Però, alla porta della città, santo e puro. Perché se lui fosse stato contaminato dal peccato, se si fosse contaminato, gli angeli, eh, fratelli? Gli angeli non l'avrebbero preso per mano, dicendogli, fai in fretta e salvati al monte. Amen? Se gli angeli hanno preso Lot per mano, ciò significa che la mano di Lot era pura, pulita, incontaminata. gloria a Dio. Ecco, vedete, perché il Signore questa sera ci sta parlando così. Io l'ho capito, se qualcuno dei più piccoli non l'ha capito, lo spiego in un'ora più chiara. Il Signore ci sta dicendo chiaramente? Non vi contaminate con quelli del mondo o come quelli del mondo. Chi è santo si santifichi di più e si mantenga santo e puro. Alleluia. Perché l'ira di Dio, prima o poi, e fra non molto, si scaglierà contro i disubbidienti di questa terra. Amen? E come se so dire in dialetto, il Signore è un nevegno e vegno di un mulino, dice. Alleluia. Amen, gloria all'altissimo. Quindi, fratelli, io ripeto, sono il portavoce, io devo guardare me stesso e entro certi limiti quelli della mia famiglia. Perché non ci posso sparare. Però farò di tutto, come ha sempre fatto di tutto, per farli camminare santamente al cospetto di Dio. Quindi questa sera il Signore lo sta dicendo, perché guardate, guardate, il Signore ha menzionato i giovani perché vivono in questo mondo, ma se ve ne accorgete, se ve ne accorgete, in questa circostanza non c'erano soltanto ragazzi, ragazze. Lotte era padre di figlie sposate. Padre di figlie non sposate, ma vergini. Lui, uomo, di una certa età, che aveva saputo mantenere santo e puro il suo corpo, il suo spirito, i suoi sentimenti e i suoi pensieri verso Dio. Il Signore ci benedica. Grazie. 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 come in te, ti chiediamo grazia del continuo, di farti conoscere sempre di più, per amarti di più, per onorarti sempre di più in una maniera migliore, perché più ti conosciamo, Signore, più ci innamoriamo di te e più, Signore, il nostro cuore si predispone a fare la tua volontà e a onorarti nella maniera a te gradita. Quindi, oh Signore, tu che conosci i nostri bisogni, tu che conosci la nostra natura, la nostra indole, opere in noi e trasformaci, Signore, veramente, in verità, a tua vera immagine e somiglianza insieme a Gesù e che insieme, Signore, agli angeli del Cielo, ti possiamo onorare, servire, amare come tu veramente ne sei degno, insieme a Gesù, benedetto in eterno. Amen. Abbiamo insieme ancora oggi ascoltato questo culto e ringraziamo il Signore che ancora oggi ha voluto parlare al nostro cuore. Culto dopo culto ci parla, ci ammaestra e ci rivela cose grandi che il nostro cuore non conosce. Prima di salutarvi e darvi appuntamento alla prossima trasmissione del culto, vi ricordo che quelli già trasmessi, insieme con le dirette del fratello Nino della domenica mattina delle dieci e un quarto, sono già a nostra disposizione, come già sapete, sul nostro canale YouTube, la nostra pagina Facebook. cercate, come già state facendo, Radio Messaggio Cristiano. Se desiderate contattarci per qualsiasi informazione, per richiedere preghiera, potete farlo benissimo a questo numero, 349-64-11-232. Ripeto, 349-64-11-232. Vi invito dunque all'ascolto dei culti ogni martedì e venerdì sera, alle dirette del fratellonino la domenica mattina alle dieci e un quarto e a lodare Gesù attraverso le vostre richieste, ogni domenica mattina più o meno intorno alle dieci meno un quarto, dieci meno dieci circa, poco prima quindi della diretta del fratellonino. Pace a tutti ancora, vi invito a seguire i cantici sul nostro canale YouTube, guardarne il video, il video della poesia sogno siciliano, il servizio dei battesimi, delle sante cene ed il calendario ogni sera, attraverso il quale il fratellonino ci saluta a tutti. E adesso anch'io vi saluto ancora una volta, vi do appuntamento alla prossima trasmissione del culto, pace a tutti, buon ascolto e buona visione da Radio Messaggio Cristiano.